In corsia 1, veniamo alla gara clou di questa mattina, i 50 rana assoluti maschi. In corsia 1, Grassi Marco, Vittoria Lata Nuoto. In corsia 2, Loschi, Moises Daniel, Veneto Banca, Montebelluna. In corsia 3, From Panama, ha partecipato a tre Olimpiadi, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Edgar Crespo. In corsia 4, From Sweden, finalista ai campionati europei di Netania, Scajus Joanes. In corsia numero 5, From Lituania, è stato bronza ai mondiali di Roma del 2009, vanta un oro, un argento e tre bronzi ai campionati europei di Lunga, Titeis Gedrus. In corsia numero 6, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 per l'Italia, medaglia di bronzo agli europei di Londra 2016, nei 200 rana, per la fondazione Bente Godi, Luca Pizzini. Corsia 7, rappresentativa Rosato, Gnolo Tommaso. In corsia 8, Stefanello Jacopo, centro nuoto Stra. In corsia 8, Stefanello, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso. In corsia 8, Stefanello, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso. In corsia 5, Lituano, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso, Gnolo Tommaso. In corsia 8, Stefanello, Gnolo Tommaso.